Nascita di una capitale, questo è il nome del docufilm presentato presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari dedicato a Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che vede come mediatore e regista il noto pesarese Fabio Galli. Un documentario che vuole essere un viaggio emozionale nella storia e nel mistero di Pesaro e della provincia. Io nasco, sono nato a Pesaro e quindi ho nel cuore Pesaro e la mia città da sempre e quindi con l'occasione di Pesaro capitale della cultura italiana 2024 ho iniziato già nel 2022 per cui eravamo già in anticipo e sui tempi a pensare come mi sarebbe piaciuto descrivere questa città in realtà questa provincia e forse anche questa regione perché questa è una regione bellissima, poco conosciuta e Pesaro ci ha dato l'opportunità di parlare di cose dal punto di vista sia emotivo che visivo perché questa è una regione in cui lascia il cuore e noi abbiamo voluto, io ho voluto come attore principalmente poi come regista portare questo viaggio in un campo emotivo poi vi renderete conto perché non è il solito documentario ma è un viaggio attraverso i misteri che partono proprio dalle origini di Pesaro e si dipanano attraverso un percorso che è innovativo in qualche maniera inaspettato e che spero vi piaccia. Un progetto che ci è stato presentato dal produttore Ermes Bonini ma soprattutto anche dall'ideatore che poi anche diretto Fabio Galli, un attore, una figura insomma molto conosciuta sul panorama nazionale ma anche pesarese e quindi si è pensato bene con lui di fissare tra i tanti momenti importanti della capitale della cultura anche un documentario che appunto parte dalla nascita di una capitale giocando un po' sulla capitale italiana cultura, giocando un po' anche a partire dalla Romanità con una capitale diciamo della penisola italica in senso più ampio con diversi passaggi diciamo anche storici alcuni suggestivi, alcuni diciamo anche di fantasia ma che riportano comunque a una narrazione complessiva di una città, di un territorio che ha da sempre svolto un ruolo nazionale, una visibilità nazionale così come chiaramente al giorno d'oggi con l'opportunità della capitale della cultura può fare anche con uno sguardo verso il futuro.